Start, 2, 1, Mission, and Liftoff! Il video che avevo fatto nel 2020 mi aveva dato parecchie soddisfazioni per i commenti perché mi avevate suggerito, il gioco vi era piaciuto parecchio e qualcuno di voi mi aveva dato anche dei commenti. Ho lasciato dei commenti abbastanza utili riguardo al concetto dei freni e riguardo a come funziona un treno effettivamente e sono commenti d'oro rispetto a quelli che ultimamente mi arrivano dove spesso sono insulti ed è una cosa che mi dispiace molto in quest'ultimo periodo perché insulti perché la gente non vuole fare la fatica di vedersi un 6 minuti di video e vuole tutte le risposte subito. Allora, di che cosa si parla in questo gioco? Beh, in questo gioco si guidano treni e una delle critiche, mi pare o se Ancaster me l'aveva fatta, sembra post-apocalittico. In realtà il gioco non ha altri treni che viaggiano. È un po' come se voi, magari come sono io, amate leve, tasti pulsanti, motori da accendere, ingranaggi, meccanismi da attivare. Vi ritrovaste in un mondo di treni, solo voi, e vi divertiste con tutto questo. Ecco, questo è il senso del gioco perché il gioco A ovviamente non vi lascia campo aperto, cioè sì, ma in realtà ci sono le missioni. Quindi praticamente voi potete accettare missioni, dovete rifornire l'equipaggiamento, credo anche il carburante perché queste sono locomotive a diesel. E soprattutto potete anche fare dei disastri, nel senso deragliare, fare esplodere cisterne, insomma dovete stare molto molto attenti. E accetterete delle missioni che vi daranno accesso a delle licenze perché questa locomotiva che era parcheggiata lì, adesso qua ricaricando la partita me ne ha generata un'altra. In realtà questa locomotiva era parcheggiata qui, io ho dovuto ruotare questo ponte, insomma, fino al binario, agganciarlo, farlo uscire e poi orientarlo di qua. Questo me l'ha fatto fare il tutorial. Ci sono diversi oggetti, c'è la world map, questa è la mappa. Credo che abbiano goods factory in town, coal mine, ci sono tutte le varie cose, con l'alto possiamo muoverci a vedere. Ancora un'interfaccia piuttosto via questa, però potete, vedete noi adesso stiamo a still milla, il mulino d'acciaio, insomma. E ci sono vari percorsi, ma ancora più nel dettaglio possiamo, mettendo via questa, andare a vedere la mappa della stazione. Vediamo che siamo a still mill A e quindi praticamente noi siamo arrivati da là in fondo, abbiamo preso la prima a sinistra e poi siamo arrivati in fondo, in fondo, in fondo, fino alla chiave inglese dove è il centro di manutenzione e abbiamo parcheggiato il treno. Ora ripartiamo da questa e usciremo da dove c'è il cerchiolino, andando poi verso altre location. Non finisce qui perché abbiamo anche il train basics dove ci spiega come connettere dei vagoni e come, diciamo, farli staccare, come conservare il carburante, le basi del freno, il derailing. Il derailing, se prendi un corner, un angolo, una curva troppo veloce, uscirà, puoi usare appunto la radio per riportarlo in binario, tuttavia costerà dei soldi. Poi c'è anche il problema del surriscaldamento, perché possono surriscaldarsi i motori diesel, quindi dobbiamo ridurre e far raffreddare. Lo slettamento delle gomme, insomma, i consigli sui danni, i segnali di limite, i gradi di segnale, le giunzioni, insomma, e così via. Questa è un'altra cosa molto interessante. Poi abbiamo una guida iniziale su come avviare un treno per, ovviamente, la locomotiva che possiamo guidare al momento. Abbiamo il portafoglio con i nostri soldi, che appunto usiamo per fare lo switch. Vabbè, la rimiata da posto un treno ci chiede soldi. Riposizionarlo anche. Vedete qua abbiamo i rail, possiamo agganciare un vagone fuori dalla sede. E possiamo anche fare lo switch dei vari cartelli, delle varie deviazioni, come se noi chiamassimo il controllore della stazione e gli facessimo cambiare. Cose che oggi sono tutte completamente elettroniche. E poi, che dire, qua sotto ci si può abbassare. Vedete, possiamo andare a staccare i tubi dei freni, allentare e poi andare a sganciare. Adesso qua, forse, ok, vedete che lo sganciamo. Poi possiamo rifare l'operazione al contrario. Vedete che si aggancia, si stringe qui, si stringono i due tubi che adesso è qui. Lo agganciamo a questo e poi si aprono i rubinetti che sono già aperti del fluido dei freni. O non del fluido, ma dell'aria. E va bene, è questo è. Ora, il tutorial ci dice di andare là in fondo. Ci andiamo, poi vi faccio vedere l'accensione della locomotiva. Il gioco ha subito nel corso degli anni, nell'anno scorso, uno overhaul, quindi una rivisitazione totale, di tutto. Quindi lo troverete sicuramente più profondo e riorganizzato. Ci sono poi altri aggiornamenti pianificati per quest'anno. Nel Q2, quindi nel secondo trimestre di quest'anno, quindi aprile, maggio e giugno, uscirà un'altra grossa patch, la potete trovare sulla pagina Steam, dalle luci volumetriche per la notte e un sacco di altre cose. E c'è tanta gente che ha smesso di giocare perché è talmente bello quel aggiornamento e vuole iniziarlo con quello. Tenete conto che il gioco costa soltanto 16 euro e 79, insomma. Qua abbiamo la possibilità di, usando questi tasti, è scomodo perché è pensato anche per un VR, quindi guardando in basso, anche quando frenate avete magari la testa a china sulla leva e non vedete dove state andando. Qua abbiamo una serie di cose, Myron Ore, tutto lo schema di quello che si può fare. Quindi la nave arriva al porto, vedete qua c'è Arbor, qua c'è una sorta di nave, arriva qui, viene trasportato all'Arbor e poi non so da dove partano, no, arriva tutto al porto, quindi il porto è una destinazione. L'oil, il pozzo di petrolio porta anche lui ingranaggi, boh, qualcosa, la farma porta tutte queste risorse qui, la food factory porta roba, ma gli viene anche portata della roba direttamente dal porto e poi esportano a loro volta altre cose, tra cui appunto alimenti alla city town. Poi abbiamo la city town che invece importa ed esporta roba costruita a mano, la factory machine e così via, questa è la struttura. Qui abbiamo il modo di vedere delle missioni, qua abbiamo dei soldi che ci hanno dato, sono 100, quindi dovremmo avere 2100 ora, sì, infatti. dobbiamo pagare le tasse e l'assicurazione ha bisogno di pagare 100 per, ok, per sprint. Ah no, devo pagare con la sotto, mannaggia, confermo, inserire il portafoglio per pagare, ok, inseriamo il wallet, conferma, ok, print, va bene, abbiamo pagato l'assicurazione, abbiamo pagato 100, che ci sono stati dati dal gioco, per un'assicurazione di 16.000, allora da quello che ho visto. Qua vedete dei lavori, li potete prendere, sei libero di prendere il tuo primo lavoro. Ora siamo sulle nostre gambe e possiamo andare a fare quello che vogliamo, ovviamente guadagnare soldi, ottenere nuove licenze, infatti vedete qua sotto ci sono delle licenze per guidare, io ho quello del vagone merci, il treno, poi c'è lo shooting, che non so cosa sia, multiple unit sarà quello del treno lungo, manual service, logistical hall, e così via, ci sono solo queste, no, vanno avanti, ce ne sono tantissime, per aumentare i treni, militari, e cose varie, molto bello. Adesso, vedete qua abbiamo, Steel Mill, Goods, Factory, and Town, abbiamo un tempo bonus di 31 minuti, un valore del treno di mezzo milione di dollari, una massa di 492 tonnellate, una lunghezza di 162 metri, ci vengono richieste delle licenze, che non so se possediamo, perché è long 1, no, col tasto R possiamo riappoggiare, vediamo se c'è qualcosa, vedete qua la licenza, ma noi che licenza possediamo? Frai Overall e TDFH, quindi SH, no, vediamo se c'è qualche cosa, FH, lunghezza 2, no, non possiamo, ce lo dirà comunque, se, col mine, vedete, possiamo trasportare quello che vogliamo, FH, dovremmo averla, credo, adesso, una volta che noi prendiamo l'ordine, lo mettiamo qua dentro, e ci viene, diciamo, questo è il movimento col VR, devo vedere se si può togliere, per il momento attendo, perché non è la mia volontà, quella di iniziare una missione, vedete, tutto sì, è vero, come obiezione, vi si può dire, che è un po' post-apocalittico, ma va bene, Allora, adesso, siamo andati qua in fondo, da dove eravamo, cioè là, adesso vedete, io mi viene comodo, perché mi muovo piuttosto rapidamente, teletrasportandomi, in giro, però vabbè, la, figata è che io non ho ancora un lavoro adesso, quindi posso andare, e un'altra cosa è, qua si potrebbe aprire la porta, oppure buttarsi dentro così, sarebbe bello magari rendere l'apertura della porta, un po' più immediata, e una volta che saliamo, è tutto fatto, quello che si fa, è che mi fa impazzire, è che è il fulcro di tutto, perché il mondo è vuoto, non mi dà fastidio, perché non stiamo simulando, stiamo, siamo in un paracogiochi, dove tutti i treni sono per noi, a patto di rispettare le licenze, ora, tiriamo su le cose, accendiamo il motore, tiriamo tutte le leve verso di noi, per sbloccare i freni, viene pompata l'aria all'interno delle pipes, dei freni, qua è impostato su indietro, o avanti, noi mettiamo avanti, perché sennò c'è anche la folle, che è questa, questo, altre cose che possiamo dare un'occhiata, questo non so cosa sia, i giri al minuto, credo il motore, e la resistenza dei freni, la temperatura del motore, che è un diesel, l'oil, il fuel, quindi qua abbiamo il carburante, qua abbiamo l'olio, il livello dell'olio, la sabbia, perché qualora dovesse accendersi la luce che stiamo slittando, possiamo buttare la sabbia sui binari, per rendere più semplice la progressione del treno, il tasto di emergenza per disattivare il motore, service engine, quindi, bisogna di servizio al motore, le ventole, la luce in cabina, per la notte, le luci frontali, e questo, bene, si va ad accelerare, e poi andremo a, a gestire la nostra, il tempo brutto, perché posso entrare così, e non, l'immersilità, adesso, adesso, io devo ancora ben capire, perché non si sganciano i freni, ma, adesso ho fermato questa locomotiva qui, e poi posso andare a spegnerla, ok, questo è, diciamo, lo stato attuale del gioco, siamo esattamente dove eravamo con l'altro video, ma spero di avervene parlato, in modo un pochino più convinto dell'altra volta, perché, perché sicuramente il gioco merita, adesso noi ci siamo spostati qui, dovrei tornare indietro, mettendola dietro, e riportare il treno dove era prima, perché, adesso ho usato il teleport, perché, è giusto che, adesso io vada, vada, diciamo a prendere un'altra, un'altra missione, bisogna trasportare le cose, guadagnando soldi, rispettando i tempi, rispettando i segnali, capendo bene quali sono i vari scambi da attivare, dovremmo andare a caricare merci all'interno di depositi, e poi trasportare, facendo sempre attenzione alle situazioni climatiche, alla velocità a cui stiamo andando, appunto i cartelli dei limiti, per non derradiare, e non dover buttare soldi nel palestinare, diciamo, il nostro vagone, i freni sono giusti così, ma onestamente, non funzionano, e non capisco il motivo, perché in effetti, se andiamo a vedere, sta frenando il treno, cioè, sta frenando, questo non riesco proprio a capirlo, ma sarà, un'elettromarccia lenta, non lo so, comunque, adesso, torniamo, adesso vi faccio vedere, che se io vado su 6, 7, questo, e lo faccio spostare, vengo fatto, diciamo, spostare di là, e non vado più dove ero prima, e potremmo anche pensare di agganciare a quel treno, ma non credo sia, perché si è spento? Ah, e siamo probabilmente frenati, e si è surriscaldato il treno, bene, fantastico, no, devo ancora capire bene, perché me l'avevate spiegato, deve essere tutto verso di me, questo è il treno, il freno del treno generale, e questo è il freno indipendente, e in realtà dovrebbe essere tirato verso di me, comunque, l'abbiamo surriscaldato, e molto male, non fuma, e poi verranno aggiunte nuove cose, quest'anno, oltre a quelle che vi ho già detto, come anche solo la pioggia sui vetri, tante finezze, non è che aggiungeranno penso il traffico, il gioco è basato per, è basato sui giocatori, che amano come me, smanettare con le leve, con i pulsanti, con i motori da accendere, i meccanismi da far funzionare, e giocabili anche in VR, credo che come immersività, a livello VR, a livello tastiere mouse, questo gioco abbia un degno collega, che è Vrench, per quanto riguarda la modifica di motori di auto, anche quello eccezionale, ci ho passato una marea di ore, spero di avervi fatto, cosa gradita, di avervi riportato dei Rail Valley, ovviamente io non sono la persona più adatta, per approfondire, per insegnare a giocare, a un gioco di questo tipo, infatti vedete che, sui fregni ho sempre problemi, ma, perché l'ho riscaricato per riprovarlo, e credo che ci passerò ancora qualche ora, perché vorrei sperimentare, un pochino le novità, diciamo, che sono arrivate in questi due anni, gioco che sta maturando bene, non è maturato il prezzo, quindi sempre 16 euro, io credo che, li valga proprio, fatemi sapere, che cosa ne pensate anche voi, qua sotto nei commenti, e noi ci sentiamo, al prossimo video gameplay, alla prossima ragazzi, e ciao ciao!